Come sfruttare al massimo il version control? Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo ad esaminare come un corretto approccio al version control per migliorare i tuoi processi di rilascio. Lavorare con un version control ormai nel mondo del software lo diamo per scontato, al 99,9% avremo anche a che fare con Git, quindi cerchiamo di capire cosa si intende con sfruttare al meglio un version control anche in ottica, in senso lato, quindi non solo come deposito dei sorgenti ma come uno strumento per andare anche a memorizzare tutti quelli che sono gli asset e la storia degli asset che circondano i sorgenti ma che comunque fanno parte del nostro soluzione software. La gestione matura di un sistema di controlli versione, di un version control, va direttamente ad influenzare la continuous delivery secondo il door devops core model che quindi ha influenza sulle performance generali di software delivery di un progetto. Andando quindi a ritroso scopriamo che il version control è assolutamente fondamentale e di supporto alla continuous delivery perché quando facciamo continuous delivery abbiamo bisogno sostanzialmente di due grandi caratteristiche, riproducibilità riproducibilità e abbiamo anche bisogno di tracciabilità quindi noi in ogni istante dovremo essere in grado di riprodurre una esecuzione della nostra automazione che ci porta all'avere il continuous delivery quindi a poter riprodurre con facilità quelle che sono tutti i nostri automatismi tipo le pipeline di continuous integration, le pipeline di deployment, gli artefatti che creano infrastruttura e così via. Ecco che averle tracciate all'interno di un sistema di version control con l'accuratezza tipo di un git dove possiamo utilizzare branch o tag a seconda della strategia ci garantisce la riproducibilità e inoltre perché in ogni dato momento nel tempo possiamo andare a scatenare le nostre automazioni a partire da un certo commit, da un certo tag e così via allo stesso modo vanno di pari passo, vanno a braccetto la tracciabilità quindi io devo riuscire dai log, dalle strumenti che la mia piattaforma mi mette a disposizione con cui implemento l'automazione, devo riuscire a capire qual è il commit che ha generato e ha scatenato quell'automazione quindi, quale era la versione della pipeline, quale erano la versione degli artefatti di infrastructure as code e così via. Quindi quale miglior modo di mettere all'interno del version control non solo i sorgenti stessi ma anche tutta quella serie di strumenti aggiuntivi, artefatti aggiuntivi che vanno a corredo della nostra applicazione quindi per esempio infrastructure as code, schema di database qualunque script a supporto eccetera eccetera andiamo quindi a farne un elenco completo per capire cosa possiamo mettere all'interno di un repository quando in genere abbiamo a che fare con un repository abbiamo ovviamente una cartella radice e di sicuro abbiamo una cartella src ma dalla chiacchierata che abbiamo iniziato poco fa abbiamo cominciato a intuire che possiamo mettere qualcos'altro nel repository allora cosa possiamo andare a mettere? Beh io metterei, faccio così una cartella che chiamo IAC infrastructure as code tutti quegli artefatti che possono essere tutti quei file che rappresentano a seconda della tecnologia che io sto utilizzando sto utilizzando un terraform, dei template di AWS sto utilizzando quindi dei bicep, degli RM template di Azure sto utilizzando qualcosa di terraform sostanzialmente dei file di testo che mi vanno a rappresentare la mia infrastruttura che in un cloud provider poi andrò a realizzare in maniera automatizzata tramite una descrizione appunto come se fosse codice tramite file di testo della mia infrastruttura ed è questo uno dei valori aggiunti massimi del cloud cosa che io non posso fare con l'hardware privato diciamo on prem in casa tradizionale qui sempre come macro categoria posso andare a mettere la chiamo per esempio tests tutti quelli che sono degli artefatti possono essere degli script possono essere dei tool tutto quello che il team ha bisogno per non solo il team ma anche la mia automazione le mie pipeline hanno bisogno per validare la mia applicazione magari nei vari ambienti quindi una sessione del repository dovrebbe essere dedicata alla gestione degli artefatti inerenti ai test un'altra cosa ovviamente possiamo mettere tutto quello che è una cartella con scritto docs quindi tutti quelli che sono delle documentazioni possono essere wiki, immagini, dei file readme particolari, delle best practice su come all'interno del progetto sono stati affrontati determinati problemi template e così via quindi una cartella dedicata alla documentazione un'altra cosa che possiamo mettere è relativa al magico mondo del container per esempio quindi nel caso la nostra applicazione facesse uso di tecnologia container come ambiente di esecuzione dovremmo sicuramente avere qui dentro i docker file docker swarm e così via ma andiamo anche a inserire tutti quelli che possono essere dei file per il nostro i nostri sistemi di orchestrazione tipicamente magari lavoriamo in un kubernetes orchestrazione o quello che è quindi avremo tutti i vari file nel caso di kubernetes avremo i vari file yaml che vanno a descrivere tutto lo stato che noi vogliamo all'interno del cluster servizi, deployment, config map e così via vanno salvate all'interno del repository infine ultimo ma non ultimo andiamo a dedicare un spazio del nostro repository relativo al database quindi sia una parte relativa a descrivere staticamente lo schema del database sia a tutta quella sottosezione della tematica di gestione del database di evoluzione del database che possono essere gli script di migration per fare evolvere il database nel tempo ci ho fatto un video dedicato ti invito a recuperare, a spulciare nel canale e andarlo a recuperare quindi come fai a sapere se il tuo team sta adottando in maniera matura il version control beh semplicemente dobbiamo stare attenti a questi errori comuni a un utilizzo parziale del version control come abbiamo detto prima di solito viene utilizzato solo per i sorgenti quindi assicurati che tutti gli altri artefatti tutti gli altri asset che il tuo team produce o utilizza, scripting, testing, database e così via siano inclusi all'interno del version control in particolare va a dare subito un'occhiata per quanto riguarda la parte del database che di solito viene trascurata invece quello a cui dobbiamo sempre puntare è avere un approccio completo dove all'interno del repository mettiamo tutti gli asset rilevanti per il progetto tenendo in mente che il nostro obiettivo finale è quello di fare riproducibilità sia in termini di binari quindi riuscire a ricostruire la nostra parte applicativa in un dato momento nel tempo dato un determinato tag, branch, commit, quello che vogliamo vogliamo anche essere in grado di ricostruire il database a un certo punto e anche l'infrastruttura quindi artefatti relativi all'infrastruttura riproducibilità e tracciabilità sono gli obiettivi a cui dobbiamo sempre tendere con un approccio di questo tipo strizziamo all'occhiolino a tutte quelle che sono una serie di pratiche che vengono chiamate GitOps cioè dove le operation, dove le operazioni quindi tipicamente tutto quello che ha a che fare con infrastruttura configurazione, networking, deployment e così via è governato da file, da asset presi direttamente da un repository Git in questo modo abilitando una tracciabilità completa bene per la gestione del version control in ottica software delivery ci fermiamo qui se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto mi raccomando metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sulle prossime uscite ciao Grazie a tutti.